La Lightwind, società del gruppo Alto Atesino Lightner, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti eolici, mette nuovamente mano al proprio organico. Dopo i dieci collaboratori messi in mobilità l'anno scorso e delle ultime ore, la notizia della cassa integrazione per altri 15 dei 55 dipendenti suddivisi nelle sedi di Vipiteno e Bolzano. I due amministratori, Michael e Anton Seber, hanno comunicato la decisione per mezzo di una lettera inviata a tutti i collaboratori nella quale si spiega che la misura è strettamente legata alla perdurante crisi, ma soprattutto alla bocciatura da parte del Consiglio di Stato del progettato parco eolico al Brennero che Lightwind doveva realizzare assieme ad azienda energetica e ad altri due partner minori. Nella missiva si annuncia anche che la vicenda verrà portata al vaglio della Corte di Giustizia Europea. Intanto emerge una clamorosa notizia. In Austria il governo del Land Tirolese e alcuni partner privati stanno pensando a progettare un parco eolico a pochi metri dal confine italo-austriaco e a poche centinaia di metri dalla zona che era stata individuata da Lightwind e da azienda energetica.